Travaglio, tre nomi, Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio, sono questi i tre nomi che oggi il centrodestra ha presentato come candidati per il Quirinale. Sono candidati veri, secondo te? In serata Enrico Letta, Conte e Speranza hanno detto che sono nomi degni, ma sicuramente non nomi dai quali si può partire per trovare un'intesa comune. Sono candidati di bandiera. La paralisi nella quale il sistema politico è vissuto per settimane, prima a causa dell'autocandidatura di Berlusconi, che poi è stato investito del mandato dai suoi alleati e poi si è ritirato dopo otto giorni, è stata sostituita dalla paralisi nata dalla candidatura di un altro personaggio, che è il Presidente del Consiglio Draghi, che per la verità si è autocandidato fin dalla vigilia di Natale, dal 24 dicembre, lanciandosi praticamente nel vuoto, nella speranza che qualcuno lo raccogliesse. È passato quasi un mese, anzi è passato più di un mese e non l'ha raccolto nessuno, quindi è evidente che prima dello schianto deve avvenire qualcosa, o si fa da parte lui, visto che al momento non c'è nessuno che lo voglia candidare, oppure sta lì ad aspettare che i partiti finiscano in uno stallo e che la sua maggioranza finisca definitivamente in pezzi, mettendo a repentaglio se stesso, la sua reputazione, la sua maggioranza, il suo governo, diciamo qualche interesse anche dell'Italia. Nel frattempo le trattative sono partite insieme alle elezioni quirinalesche, perché praticamente sabato Berlusconi si è fatto da parte e lunedì si è cominciato. Se si riesce a eliminare questi due macigni, probabilmente i partiti da domani cominceranno a vedersi anche misti. Adesso non so se faranno questa riunione plenaria tutti insieme. È chiaro che il centrodestra, dopo la botta che ha preso candidando e poi scandidando Berlusconi, ha dovuto dare una piccola prova muscolare che sembra un po' telefonata, visto che il centrosinistra non ha risposto a Pernacchi, ha detto sì, certo sono nomi degni, ma non sono questi i nomi. E quindi è molto probabile che si andrà ad altri nomi, anche perché tra quei tre nomi manca quella che ci tiene di più, diciamo, e che nel centrodestra si sta agitando molto, e che è la Presidente del Senato Casellati, che probabilmente potrebbe essere l'ultimo nome di bandiera. Sulla Casellati ci arriviamo dopo. Prima volevo sentire...